Tornano a partire da domani, 2 ottobre, i trenini della domenica, il tradizionale appuntamento con la manifestazione di modellismo organizzata dal cleve triestino fermodellisti Miteleuropa. Dal plastico senza frontiere, aggiornato con nuovi particolari paesaggistici, a quello che riproduce un tratto delle ferrovie erettiche della valle Ingadina, completamente rinnovato nei suoi effetti speciali ed affiancato da un nuovo diorama, ai due plastici Mecklin anni 60 e il plastico in scala N ora gestito direttamente dal PC. E ancora la ferrovia da giardino in scala LGB, dove si vedranno circolare il tram di Opicina con l'auspicio che quello vero torni presto in servizio, posto che il modellino rappresenta ironia della sorte, proprio una delle due vetture incidentate, ed una riproduzione di un convoglio della ferrovia parenzana. Sui plastici tanti treni di varie epoche, riproduzioni uniche nel loro genere, che accompagneranno il pubblico in un ideale percorso affascinante e divertente per i più piccoli, ma non solo. Infine, nei locali del Fair Club è stata allestita una nuova grande esposizione di modelli di varie marche e nazionalità, alcune dei quali hanno fatto la storia del fermodellismo. Appuntamento quindi domani, con orario dalle 10 alle 12 e 30, e poi la prima domenica di ogni mese, sempre con lo stesso orario, fino a maggio del prossimo anno nella consueta sede di Via dei Giardini 16 a Servola. Sono previste inoltre due aperture straordinarie, domenica 20 novembre e soprattutto domenica 18 dicembre, poco prima delle festività natalizie. I trenini della domenica, realizzati anche quest'anno in collaborazione con l'area cultura del Comune di Trieste e con la settima circoscrizione amministrativa al Servola-Chiarbola-Valmaura-Borco-Sosseggio, saranno come sempre ad ingresso libero. Ulteriori informazioni sul sito web fairclub.eu